buongiorno a tutti oggi voglio farvi vedere quello che è successo rispetto all'analisi che abbiamo fatto ieri sera quello che avevamo visto è che alle 4 di notte ci sarebbe stato un minimo del giornaliero e diciamo che qui io ho effettuato l'ingresso alle 2.45 mentre il dna due giorni a quattro giorni mi hanno evidenziato il minimo esattamente nello stesso momento come anche giornaliero a questo punto io ho effettuato un ingresso con 100 mila di sottostanti in euro dollaro e attualmente siamo in gain di 418 euro è un'operazione che chiuderò appena chiuso questo video giusto per darvi un'idea di quello che si può fare con questi strumenti e la precisione che possono fornire sui mercati nelle analisi vi do un vi auguro una buona giornata e vi invito a entrare nel percorso l'inclusiv per poter fare anche voi le stesse identiche cose a presto